Buongiorno a tutti, siamo stamattina qui per darvi conto di un'operazione condotta dalla compagnia di Rende che ha portato all'esecuzione di complessivamente nove provvedimenti di custodia di cui sei finiti detenuti in carcere, due agli arresti domiciliari e uno sottoposto degli obbligi. In più sono state svolte numerose perquisizioni che hanno interessato non solo il territorio della provincia ma anche le province in particolare di Palermo e di Roma. È un'operazione che ha avuto inizio nei primi mesi del 2010, si è sviluppata per un po' di tempo, dopodiché il tutto è stato riflettato all'autorità giudiziaria che condividendo l'abbondà dell'attività investigativa, la procura di Cosenza che condividendo l'abbondà dell'attività investigativa ha poi richiesto le misure che sono state emesse dal GIP di Cosenza. Per i particolari ora lascerò la parola al capitano Miele, comandante della compagnia di Rende che vi darà conto dell'operazione e poi eventualmente vediamo se ci sono domande. In tutto questo due dei destinatari delle misure sono stati arrestati, soggiungo, in fragranza questa mattina a Roma perché trovati in possesso di ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, nonché di un'artigianale serra destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente. Prego. Allora, salve a tutti, stanotte quindi sono state eseguite queste misure, hanno partecipato personale della compagnia di Cosenza, Paola, San Marco Argentano, Palermo Piazza Verdi e Palermo San Lorenzo e Roma Piazza Dante, oltre a due unità cinofili di Vibo Valencia. Le misure, come abbiamo già detto, sono state sei ordinanze di custodia cautelare, due arresti domiciliari, un obbligo di firme emesse dal GIP del Tribunale di Cosenza ed ulteriore 12 perquisizioni delegate per spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti colpiti da misure cautelari sono Intreri Antonio, un soggetto di Montalto Fugo, classe 63, residente a Marano Marchesato, pluri pregiudicato, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno. Gagliardi Fausto, nato a Cosenza, classe 62, residente a Di Pignano, pregiudicato, già avvisatorale. Pasqua Davide, nato in Germania, classe 73, residente a Cosenza. Marotta Francesco, nato a Cosenza, classe 83, vivi residente, censurato. Santoro Simone, nato a Cosenza, classe 81, residente in Carolei, pregiudicato, avvisatorale. Questa misura è stata eseguita in Roma. Scarpelli Antonio, nato a Cosenza, classe 67, vivi residente, censurato. Poi ci sono gli arresti domiciliari. Mignolo Mario, nato a Cosenza, classe 90, vivi residente, censurato. Arena Francesco, nato a Cosenza, classe 90, residente a Marano Marchesato, censurato. Questa misura è stata eseguita in Roma e questo soggetto è stato uno di quelli trovato poi in flagranza di detenzione e coltivazione di piante di marijuana. Poi c'è il soggetto sottoposto a obbligo di firma, Greco Alberto, nato a Cosenza, classe 73, residente a Rende. Come dicevo, Arena Francesco è stato arrestato in flagranza per coltivazione di sette piante di marijuana, con anche una lampada ultraviolette e una ventola. In concorso è stato arrestato con Saturno Daniele, nato a Benevento, classe 93, residente a Centola, ma di fatto domiciliato in Roma, presso l'abitazione dove è stato individuato Arena Francesco, che era destinatario di questa misura cautelare. Nel corso delle operazioni Pasqua Davide veniva denunciato per detenzione abusiva di sette cartucce calibro 45 abusivamente detenute. Per quanto riguarda l'escursus relativo alle indagini possiamo dire che sono partite da un'aggressione commessa il 19 febbraio del 2010 da tre soggetti ai danni di un avvocato in Castiglione Cosentino, con 70 giorni di prognosi complessivi ai danni dell'avvocato per trauma cranico facciale, ferita lacero contusa alla regione frontale, frattura di due costole. Uno degli autori è stato identificato in Santoro, Simone, uno dei destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, proprio quello che è stato individuato poi in Roma. A seguito di ulteriori accertamenti su questo soggetto si è scoperta l'attività di spaccio di quest'ultimo, così come l'attività di spaccio da parte di Gagliardi, Fausto, Arena Francesco, Greco Alberto. In particolare il Santoro, dall'attività di spaccio al minuto, è arrivato poi ad organizzare in concorso con Scarpelli Antonio l'acquisto di un chilo di cocaina da tale Mandaglio Francesco, nato a Gioia Tauro, classe 80 residente in Rizzicoli, sempre Reggio Calabria, che in data 14 aprile 2011 veniva intercettato ed arrestato a Cosenza da personale della compagnia di Rende con il chilo di cocaina occultato nel filtro dell'aria dell'autovettura, lui in uso, ricoperto da polvere del tipo caffè e pasta dentifricia, che era destinato ai predetti. Il chilo di cocaina, Santoro e Scarpelli dovevano cederlo a soggetti di Palermo e nella stessa data dell'arresto di Mandaglio, Santoro e la sua fidanzata venivano arrestati da personale della compagnia di Villa San Giovanni, attivati da personale della compagnia di Rende, perché viangiavano verso la Sicilia con 29 grammi di cocaina occultati nel vano motore dell'autovettura per farla provare agli acquirenti palermitani. Dalle successive attività di indagini si individuava Pasqua Davide che svolgeva attività di spaccio usando come base logistica il bar Gio di fronte al tribunale, all'epoca da lui gestito. Il suo abituale fornitore era Marotta Francesco da cui acquistava circa 2000 euro al mese di cocaina per poi spacciarla ai propri clienti utilizzando vari termini criptati per indicare lo stupefacente come scommesse sportive, partita di calcetto, frutta, assegno, fotocopia, scontrini, macchina, champagne, libretto di circolazione, DVX, mangiare al ristorante, primo piatto, pizza, tutti i termini che a seconda degli interlocutori venivano di volta in volta utilizzati per alludere alla cessione di sostanza stupefacente o alludere alla sostanza stupefacente stessa. Successivamente il Pasqua, visto le difficoltà di Marotta nel reperire lo stupefacente si riforniva da Intrieri Antonio di Marano Marchesato e Mignolo Mario. Durante le attività di indagine sull'attività di spaccio di Pasqua Davide in data 20 giugno 2011 l'avvocato russo Andrea ingeriva cocaina per evitare un controllo di polizia e moriva per arresto cardiocircolatorio provocato dall'ingestione di sostanza stupefacente nella notte stessa. Preparato questo file in PowerPoint dove sommariamente si danno dei dati essenziali dell'operazione. Hanno partecipato un'ottantina di militari del provinciale di Cosenza, due unità cinofili antidroga come dicevo di Vipo Valencia e poi c'è stata la collaborazione delle compagnie di Palermo Piazza Dante, Palermo San Lorenzo e Roma Piazza Verdi, lì c'è un errore di battitura e Palermo San Lorenzo. Le misure quindi sono state eseguite in provincia di Cosenza e due di queste in Roma, poi le perquisizioni delegate sono state eseguite in provincia di Cosenza e quattro perquisizioni delegate erano per soggetti in Palermo. Le attività si sono protratte dalla fine del 2010 fino ad aprile del 2012 e adesso sono state eseguite quindi a conclusione delle attività le misure cautelari. Bene, ci sono domande? Ma sull'avvocato picchiato chi è? Ma allora diciamo che sull'avvocato picchiato, c'è picchiato, aggredito che ha riportato poi un bel po' di lesioni è l'episodio che è dall'attività, o meglio, indagando su quell'episodio si scopre che uno dei soggetti che aveva aggredito l'avvocato per vicende che non nulla hanno a che vedere con questa attività è dedito all'attività di spaccio di sostanze superfacenti per cui prende il via questa attività. Quella è un'altra vicenda che nulla c'entra, poi si stacca completamente. Si stacca completamente da questa attività e quindi ha altre ragioni non ancora disvelate per cui lasciamo stare chi è l'avvocato e sul perché. Abbiamo un'idea precisa sulla vicenda però, voglio dire, quello è ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria quell'episodio specifico. Invece quello del ragazzo che muore perché lei chiarisce era un posto di blocco che era l'avvocato? Quello è un normale acquirente di questa rete di spaccio che si svolgeva come avete visto soprattutto tra il capoluogo e i comuni limitrofi che appunto avendo acquisito lo superfacente e visto che sono episodi assoluti di onore della crona quindi era un avvocato, un professionista al controllo per evitare di essere trovato in possesso di sostanze superfacenti e quindi poi incorrere in sanzioni per l'assuntore sapete di carattere amministrativo ma non crea della pubblicità non troppo gradita ha pensato bene di ingerire questa sostanza superfacente il che poi ne ha determinato la morte. L'attività di spaccio si svolgeva proprio dentro il bar? Quella di questo Pasqua? Sì, anche fuori ma anche presso. Ti vendeva la droga pure agli avvocati? O che vuole? Vendeva droga ai clienti che gliela chiedevano. Dentro così lo potere pure ai magistrati no? Anche i giornalisti. Anche i giornalisti che spesso, troppo spesso frequentano anche il Palazzo di Giustizia. Qualcuno potrebbe dire anche gli appartenenti delle forze di polizia. No. No. Quindi insomma a margine di questa attività purtroppo ci sono questi due episodi soprattutto la morte dell'avvocato che... No, era un ragazzo. La morte dell'avvocato. Sì, era avvocato. Dico avvocato perché era russo, era avvocato. Nel corso dell'attività sono stati sequestrati poco più di un chilo, un chilo tutto insieme, insomma, più quasi 30 grammi che portavano a Palermo per la prova, cosiddetta prova, più poco altre cose nel corso dell'attività, riscontro proprio dell'attività... E quindi loro questa droga la prenderanno dalla provincia di Teggio, dal Gioia Tau? Allora, in quel caso avevano provato a approvvigionarsi da questo soggetto di Gioia Tau, di Rizzico, come si dice? E la volevano vendere a Palermo? E aveva trovato la possibilità di venderla tutti insieme a Palermo per conoscenze che aveva su Palermo, ma questi soggetti la acquistavano anche per il mercato locale per venderla qui in zona. Sì, tant'è che quando il principale fornitore ha delle difficoltà nell'approvvigionare lo stupefacente si rivolgono subito a altri due fornitori. Grazie Grazie